La nostra lista Baldinelli Alternativa per Cubbio è una lista che richiama ai valori della libertà. La libertà di fare impresa per i nostri giovani. Nuova area industriale a branca per attrarre nuovi imprenditori e creare lavoro nel nostro comune, sostenendo i giovani attraverso la formazione, la banda larga e spazi di co-working per creare nuove start-up. La libertà di pensiero e di espressione, dando voce a tutti i cittadini senza esclusione, senza pregiudizi, senza differenze, dando ascolto alle frazioni e ai problemi del centro storico. La libertà di poter essere sicuri, per strada e nelle nostre case. Più forze dell'ordine, utilizzo della polizia locale nell'orario notturno, un commissariato di polizia comprensoriale e collaborazione con i cittadini, con i comitati di vicinato. La libertà di godere degli stessi diritti e soprattutto la libertà di poter vivere una vita dignitosa, soprattutto per le classi sociali più difficili da un punto di vista economico, che sosterremo con grandi gradi fiscali. La libertà di poter vivere nel nostro comune potenziando le infrastrutture, il rapporto pubblico e privato, il rapporto scuola-lavoro, la qualità della nostra offerta turistica, l'accesso a finanziamenti europei, tutto all'insegna dello sviluppo economico e della creazione di nuovi posti di lavoro. La libertà di poter invecchiare serenamente, attraverso l'impegno per la creazione di nuove residenze sanitarie e assistenziali, affinché nessuno venga lasciato solo, come sole non verranno lasciate le famiglie, con familiari disabili che vivono il dramma del dopo di noi. La libertà di praticare qualunque sport nella nostra città, affinché i nostri giovani imparino il valore del gioco di squadra, dell'impegno e della determinazione. L'alternativa liberale e credibile siamo noi, noi persone libere che hanno solo un obiettivo in testa, Gubbio è il proprio futuro, per i giovani, per le famiglie, per le imprese, per gli anziani. Difendiamo insieme a Rocco Girlanda Sindaco le nostre libertà, prima che sia troppo tardi. State con noi!